Agli ordini dello starter, i cavalli della settima corsa, premium speakable jay, 3 squarta e quinte, 16 al via divisi su tre nastri. Subito valido il primo segnale con allo start la più veloce che sembra Umbi, però incalzata subito da Pistillo Lewis. Insiste e passa Pistillo Lewis, terza posizione per Top Quark. All'esterno Uva di Casei che ha subito in scia un sogno grad che ha girato velocissimo dal secondo nastro e ora si affaccia addirittura in terza ruota per puntare in avanti. Poi ancora Obba Obba insiste nello sforzo un sogno grad che ora giunge al salchi di Pistillo Lewis ma quest'ultimo sembra intenzionato a correre in avanti. Pistillo con fuori il sogno grad, poi segue Umbi davanti a Top Quark. Ancora Obba Obba con all'esterno Uva di Casei. Quindi Ultramarbini la sciglia di Uva di Casei. Avendo all'interno Overoff Cloud nella scia Ufo Robo HP. Poi ancora una pariglia composta preziosa caff e scintilla caff. Ancora un amore Petit con all'esterno Uauca in coda Rufina Spin. Passato ora di forza è nettamente un sogno grad che cerca la fuga in avanti. Accelera Marcello Vecchione in salchi al figlio di S.J. Spoto. Prende netto margine da Pistillo Lewis. Cassavolta si mantiene chiaramente in seconda posizione. Fa un primo sforzo Ultramar B per emergere in terza posizione. Seguito nell'azione da Ufo Robo HP. Poi ancora scintilla caff. In chiaro vantaggio ancora un sogno grad ma Pistillo Lewis cerca il recupero. Poi Ultramar B al cui esterno è molto incisivo Ufo Robo HP che si trascina a scintilla caff. Ultramar B prova a tenere la scia di Ufo Robo HP. Ora è stanco un sogno grad. C'è l'attacco di Ufo Robo HP che di slancio passa a condurre nei confronti di scintilla caff. Che sembra più incisiva di Ultramar B. Poi si arrende di galoppo un sogno grad. Poi Pistillo Lewis un amore Petit e ancora Uauca. E' in chiara evidenza Ufo Robo HP nei confronti di scintilla caff. Poi Ultramar B che subisce l'attacco di un tenacissimo Pistillo Lewis. Nel finale Ufo Robo HP che conclude netto su scintilla caff. Ultramar B Pistillo Lewis mentre il gruppo è regolato per il quinto posto. Vediamo se riusciamo a riconoscerlo. Probabilmente dal numero 6 di Over of Cloudlet. Rivediamo lo stacco di Ufo Robo HP e Lucio Becchetti. Nei confronti di scintilla caff e Davide Di Stefano. 13, 14. Poi la favorita Ultramar B al terzo posto. 8 a completare l'attrice. Il 5. Pistillo Lewis protagonista lungo tutto il percorso. La quinta piazza a completare il quintè per Over of Cloudlet che di spunto batte i penalizzati. Ti amo Petit e Uauca.